I territori del comprensorio del Consorzio 2 Alto Valdarno chiedono acqua. Purtroppo i cambiamenti climatici si fanno sentire anche in questa zona. Si vedono alternarsi momenti brevi in cui le piogge sono molto intense a lunghe periodi di siccità. Ecco allora che il mondo agricolo senza acqua non può portare avanti le proprie produzioni e le proprie coltivazioni. Il 3 ottobre il nostro Consorzio insieme alle tre associazioni di riferimento e alla regione toscana ha sottoscritto un patto per l'acqua. Un patto dove ci impegniamo a valutare il reale fabbisogno irriguo delle imprese agricole per le coltivazioni in essere ma anche per gli indirizzi futuri. A promuovere l'utilizzo di una rete di distribuzione collettiva limitando i prelievi individuali di acque sotterranee e anche delle acque superficiali. Questo perché vogliamo contrastare l'abbassamento delle falde acquifere e garantire il deflusso minimo vitale nei nostri corsi d'acqua. Per far questo vogliamo favorire lo sviluppo della rete di distribuzione di Montedoglio con la realizzazione di nuovi distretti irrigui e adeguate reti di distribuzione che tengano conto anche delle più innovative tecniche di distribuzione dell'acqua. È fondamentale quindi adottare una politica irrigua, efficace e moderna a supporto di una agricoltura di qualità e di eccellenza come solo i nostri territori sanno esprimere.